Siamo qui davanti al carcere Lorusso e Cutugno con Francesca Frediani di? Movimento 4 Ottobre Consigliera regionale della regione Piemonte Come mai, consigliera, siamo qui davanti al Russo Cutugno? Siamo qui perché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di detenuti attraverso persone che sono in contatto, familiari, amici e abbiamo saputo di questa esigenza, tra le altre cose, di avere dei frigoriferi perché con l'arrivo della stagione più calda i detenuti hanno bisogno di poter conservare il loro cibo e diciamo che il carcere e le celle in particolare non sono esattamente il luogo ideale per la corretta conservazione con le temperature calde e quindi ci siamo offerti di accompagnare le persone che hanno acquistato il frigo all'interno del carcere quindi oggi lo consegneremo dopo aver ricevuto l'assenso della direttrice Perfetto, la direttrice Cosima Bucogliero arriva dal carcere di Bollate si è rivelata contenta dell'iniziativa? Sì, è stata molto disponibile, anche lei ha ribadito questa necessità quindi oltre a questo gesto che faremo oggi su iniziativa di queste persone che sono vicine ad alcuni detenuti che si trovano attualmente nel carcere cercheremo di portare avanti anche un'istanza un po' più formale per fare in modo che queste e altre richieste vengano ascoltate ed accolte Grazie consigliera